Se non intervieni subito perderai tutti i tuoi cavoli. La farfalla cavolaia è in azione. Ecco tre rimedi più uno per combatterla. 1. Le reti anti insetto. Copri con una rete i tuoi cavoli. Questo impedirà alle farfalle di deporre le uova sulle foglie. 2. La rimozione manuale. Controlla spesso le foglie dei tuoi cavoli perché è facile individuare le uova e le larve si possono rimuovere manualmente. 3. I repellenti. Queste farfalle non amano l'odore del pomodoro quindi si può preparare un macerato con le foglie di pomodoro e poi spruzzarlo sui cavoli. Sempre con una pompa si possono irrorare le foglie dei cavoli con una polvere di roccia per rendere difficile il pasto dei bruchi. Le farfalle cavolaie sono degli insetti belli e anche utili all'ecosistema. Sono delle impollinatrici e hanno un ruolo nella catena alimentare. Quindi dopo aver utilizzato tutti questi sistemi di protezione che vi ho detto lasciate qualche cavolo o altre piante a loro gradite a disposizione.